La zona è transennata, il protocollo è quello di sempre. Incognizione e ispezione. Chiedo un'operazione all'accesso. Bene, gente, lo sapete. Semplice e veloce. La procedura la conosce. Documentazione esaltiva, quindi riprenda tutto. Ma qui è tutto troppo tranquillo. Stai buono, no, no! Resisti, Marcus, arriviamo! Correte, correte! Dov'è? È via, via! La porta è aperta! Renta, la usi! Che cos'era? Cazzo, non lo so! Fai il cazzo che vuoi, ma la telecamera è mia e me la prendi. Che faccio? Ti do. Dammi. Che cos'era? Che cos'era?